Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. C'è la pagina politica in apertura. Gli industriali d'Abruzzo incontrano a Pescara i candidati alla presidenza della regione a quali chiedono burocrazia più snella, regole certe e anche la riduzione della pressione fiscale. Vediamo i dettagli nel servizio. Burocrazia snella, chiarezza istituzionale, regole certe, processi rapidi, gestione della sanità come opportunità di sviluppo, riduzione della pressione fiscale, ricostruzione di L'Aquila. Sono queste le priorità dettate da Confindustria e Anci Abruzzo per il rilancio e lo sviluppo della regione e candidati governatori in vista delle elezioni del 25 maggio. Il dibattito tra i candidati si è fatto molto acceso sui temi della sanità, in particolare la mobilità attiva e passiva, e sui pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione, ma si è parlato anche di sburocratizzazione e digitalizzazione, di idrocarburi e trivellazioni e di riqualificazione urbana e consumo del suolo. Unica assente è la candidata nel Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi, il vicepresidente regionale di Confindustria Paolo Primavera. Ci spiace che l'unica assente è la candidata del Movimento 5 Stelle, più che altro per riportare un documento programmatico di cosa si aspetta a Confindustria dai candidati della presidenza della regione. Di certo vogliamo una regione molto più semplice, dinamica, e che vada incontro a quelle che sono le esigenze degli imprenditori. Quello che devono capire i candidati presidenti è che questa regione riparte, se riparte il tessuto imprenditoriale. Quindi tutte quelle che sono le agevolazioni, gli interventi che verranno messi in campo per far ripartire gli investimenti su questa regione, quindi parlo di quelle infrastrutture che sono rimaste a tempi ancora incerti, più che altro su bretelle importanti come il completamento della Fondo Valle Sangro, strategica per un'area importante industriale come quella della Val di Sangro. Io ritengo che sia importante innescare un nuovo sistema di agevolazione e andare incontro a quelli che sono gli interventi degli imprenditori. E questa è tutta la politica. Gli amministratori locali, i sindaci, devono capire che chi favorisce le imprese sul territorio, lo sviluppo delle imprese, automaticamente favorisce l'occupazione. Il Movimento 5 Stelle è al fianco dell'ex imprenditore Silvio Buttiglione che ha visto la sua casa finire all'asta per presunti debiti con le banche ed ha per questo protestato più volte davanti alla sede di Equitalia a Pescara. Domani all'asta, convocata nel Tribunale del Capoluogo Adriatico, con lui ci saranno Beppe Grillo e il Vice Presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio. Il leader del Movimento 5 Stelle terrà poi un comizio in Piazza Primo Maggio. Voglio ringraziare il Movimento 5 Stelle, ha detto oggi Buttiglione in conferenza stampa, è stato l'unico ad ascoltare il mio grido di dolore. Crisi, economia, ance e confindustria tracciano il bilancio del secondo semestre 2013. L'Abruzzo, dicono, è a rischio di industrializzazione. chiedono alla politica di rimettere al centro l'impresa. Fatturato in diminuzione, utilizzo della capacità produttiva stabile ed export che tende all'aumento. L'indagine semestrale di Confindustria Abruzzo relativa a giugno-dicembre 2013 scatta la fotografia dell'economia abruzzese e parla di un pluriannale periodo di profonda crisi e di deboli segnali di ripresa che vanno preservati da possibili ricadute e sostenuti per scongiurare la deindustrializzazione. Oggi più che mai, dicono gli industriali, è necessario un intervento profondo ed articolato del policymaker con politiche che consentano di agganciare i seppur timidi segni di ripresa per farci assolutamente necessario mettere al centro di tutto l'impresa, in particolare quella manifatturiera in quanto unico attore del sistema economico in grado di creare valore. Il presidente regionale, Mauro Angelucci. La situazione la conosciamo bene, è una situazione che ci vede ancora in recessione. Anche a livello nazionale siamo ancora più bassi del livello che l'Italia rappresenta come perdita in questo momento. Noi chiaramente come imprenditori stiamo facendo la nostra parte, stiamo investendo sul territorio, il momento è molto difficile soprattutto sul versante dei consumi interni. Abbiamo fatto le re di impresa, i poli, tutte leve che ci aiuteranno sicuramente a ritornare in livelli buoni, ma mai come il 2008-2009 non torneranno mai più. Oggi noi soffriamo di credito, soffriamo di leggi regionali che ci permettono di soffrire dei fondi FAS e dei fondi europei. Accanto alle imprese manifatturiere va fatta ripartire l'edilizia tradizionale volano dell'economia in Abruzzo e all'Aquila in particolare. Questo secondo obiettivo si lega indissolubilmente con la ricostruzione post-sisma che deve ottenere un nuovo impulso. Enrico Ricci, presidente regionale Ance. La situazione in regione per l'80% ricarica il trend nazionale negativo sul settore, fortemente negativo. Per il 20% del territorio sulla zona del cratere Aquilano i dati sono in controtendenza e attenuano il crollo verticale del settore. Le prospettive che noi proponiamo sono la maggiore presenza delle imprese abruzzesi nell'ambito della ricostruzione del cratere, più una serie di interventi che vanno dalla rigenerazione urbana e un'iniezione di risorse sulle opere pubbliche per quanto riguarda la difesa del suolo, la salvaguardia dei fiumi e anche l'edilizia residenziale pubblica. Nel corso dell'ultima seduta, la giunta regionale abruzzese ha approvato una delibera che dichiara la situazione di deficit strutturale dell'ater di Chieti come richiesto dall'amministratore unico Antonella Gabini. Il provvedimento si è reso necessario, secondo la giunta regionale, per attivare il piano di risanamento che consentirà all'ater di trovare le disponibilità necessarie all'erogazione dei servizi destinati agli utenti delle case popolari. Inoltre potrebbe finalmente sbloccare il pagamento degli stipendi per i 23 dipendenti che non l'hanno percepito e sono in stato di agitazione. Il prossimo passo sarà la nomina attraverso un decreto del Presidente della Regione di un commissario che dovrà gestire il risanamento dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale. Il decreto sarà emanato nei prossimi giorni. Dalla data di nomina decade poi l'amministratore unico attualmente in carica ed è risolto definitivamente il contratto del direttore senza che venga corrisposto alcun compenso o indennizzo. La pagina politica Pescara. Il candidato sindaco Guerino Testa oggi ha presentato il programma. Pescara è una città che ha assoluto bisogno di ripartire. Comincia così il programma di Guerino Testa, candidato sindaco di Pescara per il nuovo centrodestra, che oggi ha illustrato alla stampa il suo programma composto di sole 16 pagine. Punto di partenza il piano regolatore generale. Ma, ha precisato Testa, il programma sarà oggetto di implementazione nel corso dei prossimi mesi e fondamentale sarà ascoltare le richieste della gente. Nel programma noi abbiamo voluto dare una caratterizzazione, una visione di quella che sarà la Pescara nei prossimi 5 anni. Ma sarà importante un confronto quotidiano per capire dove continuare ad agire. Grande caratterizzazione nel mondo del sociale, ovviamente delle famiglie, degli anziani e dei giovani. Per quanto riguarda gli anziani, ad esempio, convenzioni con le farmacie per i farmaci a domicilio, gli anziani per quanto riguarda anche i centri per socializzare, per i ragazzi fare accordi con le strutture sportive, per garantirgli anche dopo il termine della scuola di poter fare sport, poter fare corsi di pittura, corsi di teatro, e quindi socializzare e dare respiro alle famiglie. Riaprire un contatto diretto con tutti i mondi produttivi che in questi anni sono stati totalmente abbandonati dalla vecchia amministrazione e che non si sentono ovviamente garantiti dagli altri candidati, ad esempio il candidato del Partito Democratico che è stato totalmente assente in questi 5 anni. Quindi accordi con il commercio per rivedere totalmente ed integralmente il piano traffico, agire sulla leva fiscale per modularla e per in qualche maniera centrare maggiormente gli obiettivi per gli anziani, per quelli che sono morosi, per chi non ha una capacità contributiva adeguata. In attesa del nuovo PRG ha rimarcato testa, è assolutamente necessario attivare subito il decreto sviluppo. È impensabile che il Comune di Pescara sia uno dei comuni che ad oggi non ha ancora recepito il piano sviluppo. A danno totalmente non solo degli imprenditori del settore edile ma di tutto l'indotto che circola in questo compatto. Grande attenzione per gli eventi sportivi e culturali che saranno eventi ripetuti anno dopo anno ma che avranno un rango di livello internazionale. E poi, cosa più importante, far sì che ci sia nuovamente un rapporto di fiducia, un rapporto di empatia, un rapporto di vicinanza tra il sindaco, quindi tra l'amministrazione comunale e i cittadini, cosa che è mancata totalmente in questo periodo. Il WWF ha celebrato ieri la giornata nazionale delle oasi con la raccolta a fondi dedicata a fermare la deforestazione del polmone verde del mondo, l'Amazzonia. Il Tg Max è stato l'oasi del lago di Serranella. Una calda giornata primaverile ha accolto i visitatori all'oasi lago di Serranella, tra i paesi di Sante Osagno del Sangro, Casoli e Altino, per la giornata che il WWF ha dedicato alle quattro oasi abruzzesi. Un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica quest'anno verso il tema della deforestazione, in particolare con una raccolta a fondi per salvare l'Amazzonia, il polmone verde del mondo. Ines Palena, WWF, zona frentana. Come tutti gli anni apriamo le nostre oasi al pubblico perché sono dei posti dove ovviamente la natura è veramente rigogliosa ed è giusto che si possano visitare anche tutto l'anno. Però in questo momento in particolare noi cerchiamo anche di abbinare questa giornata ad una raccolta a fondi che possa servire specificamente a qualcosa. Per esempio quest'anno abbiamo dedicato la giornata delle oasi all'Amazzonia che è la nostra oasi più grande, l'oasi del pianeta per cui raccogliamo fondi per i nostri progetti che sono in Amazzonia con le popolazioni locali cercando di limitare la deforestazione e tutti i problemi di bracconaggio che ci sono. Quindi questo giorno è l'ultimo per poter spedire anche un sms oppure chiamare da casa donando 2 euro, 5 euro per questa raccolta a fondi. In particolare qui noi cerchiamo comunque anche di coinvolgere molto i bambini insomma qui a Serranella perché facciamo molte attività didattiche anche ludiche per i bambini per cui abbiamo puntato un po' più su questo quest'anno e in altre oasi invece poi fanno attività diverse quindi ci siamo un po' differenziati. Per fortuna una bella giornata per cui oggi ci ha aiutato anche il tempo e questo vuol dire che facciamo qualcosa utile anche per il pianeta evidentemente. Spazi rinnovati per il CUP, il centro unico di prenotazione dell'ospedale San Camilo dell'Ellis di Atesa l'ASL provinciale ha investito 130 mila euro per i lavori che sono stati ultimati e da stamattina il centro è tornato in funzione nei nuovi locali come annuncia in una nota l'ufficio stampa della ASL. I locali sono stati ampliati sono stati rifatti i pavimenti, gli infissi, le facciate esterne ed è stato installato un nuovo impianto di ventilazione e condizionamento. Anche gli accessi sono stati organizzati in maniera più funzionale e sicura. Infine un nuovo sportello del CUP è stato dedicato ai disabili. Notte dei musei al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano con laboratori per grandi e piccini e visite guidate alle mostre. Una serata intera con mamma e papà a modellare la Creta e senza il timore di sporcarsi troppo. Si sono divertiti così i bambini che hanno partecipato in famiglia alla Notte dei Musei che a Lanciano ha visto protagonista il Polo Museale Santo Spirito. Un'iniziativa patrocinata dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa un'occasione importante per l'amministrazione comunale di Lanciano per valorizzare il proprio patrimonio e il prestigio delle istituzioni museali quali luoghi di partecipazione di storie e di identità. Oltre al laboratorio di modellato d'argilla per grandi e piccini a cura della cooperativa Il Pensiero la Notte dei Musei a Lanciano ha offerto anche visite guidate al Museo archeologico della città e alla mostra temporanea intitolata Nell'anima l'eco delle zampogne d'annunzio e le antiche sonorità del mondo pastorale a cura della soprintendenza ai beni storici dell'Aquila e l'associazione culturale Zampogne d'Abruzzo. Un pregiudicato di 46 anni di Miglianico è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Ortona per evasione dai domiciliari dopo essere stato soccorso a seguito di un incidente che lo aveva visto protagonista con la sua auto in contradaforo di Ortona. All'arrivo dei militari l'uomo ha cercato di allontanarsi per evitare di essere identificato ma una volta fermato i carabinieri hanno accertato che si era allontanato dalla propria abitazione violando la prescrizione impostagli dal giudice di sorveglianza di Pescara. Arrestato dunque con l'accusa di evasione su disposizione dell'autorità giudiziaria il 46 anni è stato nuovamente ricondotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari ma poiché ferito a seguito del sinistro stradale è stato prima accompagnato in ospedale per essere medicato dove è stato giudicato guaribile in sette giorni. La pagina dello sport il calcio di Serie B la Virtus riprenderà ad allenarsi domani con la trasferta di Carpi assolutamente da vincere. Possibile il recupero di Trust non ci saranno squalificati. Lunedì di riposo per la Virtus col tecnico Baroni che ha dunque fatto tirare il fiato ai suoi in vista delle ultime due partite decisive. Inutile fare i conti contro Carpi e Cittadella bisognerà solo vincere per conquistare lo storico traguardo dei playoff. Lasciano besperare le buone condizioni fisiche il carattere la determinazione lo spirito battagliero di chi non vuole lasciare nulla di intentato del resto sono i numeri che confermano in ben 11 casi la Virtus ha rimesso in piedi l'esito finale negli ultimi dieci minuti. E adesso ecco Mr. Baroni. Se noi siamo lì in questo campionato abbiamo collezionato 58 punti stando quasi sempre nelle prime 7-8 vuol dire che questa è una squadra che nei valori ha valori importanti e quindi noi vogliamo arrivare fino in fondo. La vittoria del Carpi cambia qualcosa? No non cambia niente c'era da andare a vincere prima e c'era da andare a vincere adesso. Per Carpi domenica sera con fischio alle ore 20 e 30 non ci sarà nessun squalificato il difensore Trest potrebbe recuperare decisiva dunque questa settimana di lavoro molto difficile rivedere in campo Germano bene tutti gli altri per l'ultima trasferta della stagione regolare la tifoseria in piena mobilitazione e non farà mancare il proprio supporto attesi a Carpi circa 350 tifosi partita difficile ma la portata dei rossoneri contro un avversario che ha sbancato il Barbera di Palermo ma con l'obiettivo playoff irraggiungibile o quasi e questa sera trasmetteremo la telecronaca in differita di Lanciano Spezia alle ore 23 e 30 ancora Serie B quasi certo l'addio di Cosmi al Pescara e il popolo bianco-azzurro dà il via al toto allenatore il sogno resta a Zeman ma il Bologna preme forte Mister Cosmi è con le valigie pronte e la dirigenza bianco-azzura ormai ha messo già una pietra sopra il recente passato impegnata adesso a riflettere per riprogettare il Delfino scontata la conferma di Giorgio Repetto il divorzio da Guglielmo Acri e l'arrivo di un altro di esse la lista del papabile nuovo tecnico è lunghissima ed è strettamente collegata a Zeman se il boemo dovesse accettare si penserà solo a lui altrimenti via libera al toto allenatore da Foscarini a Drago a Nicola mangia Calori ma si tratta solo di ipotesi di sicuro la società non aspetterà l'infinito ma cercherà a tutti i costi di strappare il sì di Zeman in tempi utili per non trovarsi smarrita in caso di risposta negativa sull'allenatore preme forte il Bologna ma se dovessero verificarsi richieste da Serie A dignitose chissà se Zeman accetterebbe ancora la Serie B per adesso parola a Cutolo che ha due altri anni di contratto proprio col Pescara e che traccia un bilancio personalissimo di questa alterna stagione sicuramente la stagione come hai detto tu è una stagione negativa sia per Cutolo che per il Pescara Cutolo ha un contratto ancora di due anni con il Pescara e quindi non ho nessun ombra di dubbio perché tutte le valutazioni le deve fare la società io ho un contratto che rispetterò fino alla fine quando la società riterrà opportuno di dirmi qualcosa di diverso io sono qui e anche da allenatore molto dipenderà anche da allenatore perché purtroppo viviamo una situazione che non si sa ancora niente però sinceramente io non ho mai chiesto alla società di andare via e non lo farò perché comunque ho ancora due anni sai bene che sono arrivato con entusiasmo io sto qui a disposizione della società tre d'aspo sono stati notificati dai carabinieri della stazione di Francavilla al mare a sei giovani fra i 14 e i 19 anni che lo scorso 27 aprile al termine dell'incontro di calcio del campionato di eccellenza tra il Francavilla e il San Salvo lanciarono sassi al passaggio del pullman e delle auto dei tifosi della squadra ospite i provvedimenti della durata di tre anni sono stati emessi dal questore di Chieti la partita si era svolta regolarmente senza problemi di ordine pubblico era questa l'ultima notizia per oggi grazie per l'attenzione vi ricordo che servizi TG e programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it ci trovate anche sul nostro canale youtube e ai profili ufficiali dei social network di facebook e twitter grazie per l'attenzione ancora arrivederci grazie per l'attenzione Grazie a tutti.